Sulla scia delle inchieste giornalistiche di Giulia Italia su America's Cup e sulle circostanze e fallimenti dell'amministrazione De Magistris, anche l'associazione Alpi presenta il suo dossier Sprofondo Arancione, questo è il titolo, una raccolta di denunce dell'associazione Alpi sulla mala politica in due anni e mezzo di amministrazione De Magistris. Un fallimento direi proprio di sì, non solo del sindaco, non solo degli assessori, ma di tutta la città di Napoli. Il nostro lavoro non è un attacco personale verso il dottor Luigi De Magistris, è una critica all'attività amministrativa che è stata posta in essere. Il libro ha la funzione di risveglio civico, sarò più chiaro, con la dimostrazione che una semplice associazione di ragazzi può far nascere con le proprie denunce, indagini e l'interesse da parte della magistratura, si lancia un messaggio importante, quella di mettere il cittadino al centro di un ruolo che è quello di controllore, prima di tutto, prima che di amministrato. Una cosa è far nascere un'idea, far nascere un'idea di città, operare delle scelte in congruenza con le idee che le ispirano. Altro è cogliere delle occasioni slegate, sciolte tra loro, che poi si risolvono, come nel caso dell'America's Cup, in un, chiamiamolo, investimento assolutamente improduttivo che nulla lascia a Napoli. Questo è il tema dell'incontro che a Palazzo Alabardieri ha messo a confronto la politica e le associazioni che si occupano di monitorare quelle situazioni istituzionali che risultano nebulose. Qualsiasi approccio alla straordinarietà è un approccio in una città come Napoli destinato a fallire nel più breve tempo possibile. Manca un'amministrazione che faccia invece i conti con la realtà, con la complessità della condizione della città, con i vari limiti che in questa città si apparezzano sempre di più, dei ritardi, c'è la necessità di riorganizzare il sistema amministrativo, c'è la necessità di organizzare il sistema dei servizi, dalla spazzatura a tante altre cose e credo che c'è bisogno di maggiore rigore, di maggiore concretezza, di una visione meno enfatica e retorica circa le potenzialità della città, perché sono bugie, questa è una città in ginocchio, c'è bisogno di maggiore senso di responsabilità. La manifestazione di oggi sia utile per, come dire, concentrare l'attenzione sui temi specifici o sul ruolo negativo che il sindaco dei magistri si sta esprimendo sul piano generale. Quello che sta emergendo è un'amministrazione priva di progetto, un cercare affannosamente di risolvere senza riuscirci i problemi enormi che questa città ha, ovvero, come dire, di percorrere la strada della demagogica popolarità rispetto a quella, come dire, della concretezza. L'America Scappe, se lei ci pensa, ne è un esempio. Ricordate tutti quando durante la campagna elettorale nel programma del sindaco dei magistri se vi era, come dire, era indicata la strada di non percorrere i grandi eventi, addirittura si parlava di piccoli eventi rionali o quant'altro e poi una volta diventato sindaco solo per una questione, come dire, di demagogica popolarità fa questa operazione dell'America Scappe che, come dire, non mi pare essere riuscita sotto il profilo turistico commerciale attesi i dati alberghieri e come, peraltro, se sono vere da lui intercettazioni apparse sulla stampa, viene riconosciuto anche da persone a lui molto vicine.